Stiamo andando ad incontrare Giuseppe Casarubbia, uno storico, un professore, lui ha studiato l'intreccio tra Stato, mafia e fascismo. Ha fatto un lavoro molto interessante su Portella della Ginestra che gli ha procurato una denuncia, una querela, che ha vinto però ampiamente in sede processuale e il giudice scrive che il suo lavoro è ineccepibile di grande valore scientifico e quindi noi siamo molto curiosi di andare a conoscere questa persona e tra poco saremo lì. Grazie.